Buongiorno a tutti, vorrei darvi alcuni aggiornamenti, alcune informazioni su ciò che stiamo facendo noi qui in ambasciata e i consolati a Londra e Edimburgo per rispondere a tutte le vostre richieste, a tutte le vostre esigenze che ci state manifestando in questi giorni così difficili per il nostro Paese e anche per tutti voi che siete qui nel Regno Unito. Siete in tanti che vi state rivolgendo a noi. Da venerdì abbiamo ricevuto circa 7.000 telefonate, abbiamo ricevuto circa 10.000 email. Stiamo cercando di rispondere a tutti nel modo migliore e nel modo più preciso possibile. Quindi vi chiedo anche un po' di pazienza se non sempre riusciamo a farlo in maniera tempestiva. Vorrei però chiedervi anche io a voi una cortesia. Cerchiamo di mettere tutte le informazioni, tutte, sui nostri siti dell'ambasciata e dei consolati, sui nostri profili Facebook e Twitter. Vi prego quindi di consultare in primo luogo questi siti e questi profili dove molto probabilmente troverete le risposte ai vostri quesiti. Laddove ovviamente questo non sia possibile allora certamente scriveteci, telefonateci e come dicevo prima cercheremo di rispondere a tutti. La nostra priorità in questo momento è dare assistenza a tutti coloro che vogliono tornare in Italia. Questo lo facciamo cercando di darvi tutte le informazioni possibili, tutte le informazioni aggiornate. È difficile, lo sappiamo, in questo momento tornare in Italia. Viaggi anche via terra, via treno sono ormai ridotti al minimo, lo stesso anche per gli scali. C'è Alitalia come unico vettore che opera da Londra a Roma e con Alitalia noi cerchiamo di collaborare fornendo attraverso i nostri siti tutte le informazioni che di volta in volta Alitalia mette a disposizione sui voli appunto disponibili e Alitalia sta cercando nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di aumentare la frequenza giornaliera dei voli. Vorrei darvi anche alcuni consigli su cosa fare quando arrivate in Italia. È importante che una volta che arrivate al vostro domicilio, quindi non all'aeroporto di Roma ma al vostro domicilio, segnalare la vostra presenza alle autorità sanitarie competenti e nella vostra casa o dove deciderete di alloggiare dovete rispettare 14 giorni di auto isolamento. È importante che lo facciate. Il nostro Paese sta dando in questi giorni un grande esempio. Sono tante le manifestazioni di rispetto per quello che le autorità stanno facendo, che io ricevo, ma anche di sincera ammirazione per la forza d'animo che il nostro popolo sta dimostrando in un momento così difficile. Lo state facendo anche voi qui nel Regno Unito e noi nel nostro piccolo cerchiamo di darvi una mano in tutto quello che possiamo fare. Soltanto se rimaniamo uniti e compatti supereremo un periodo che certamente è tanto difficile per tutti noi.